Se lavorate nel settore della personalizzazione e volete dare una dose di innovazione ai vostri clienti, fateli ragionare sull'impiego delle stampanti 3D per la promozione, per il marketing, per tutto quello che è comunicazione, la parte di allestimento. Possiamo prendere ogni tipo di file 3D, STL, inserirlo dentro un programma come MeshMixer, aggiungerli parti, toglierli parti, scrivere qualcosa e mettere anche i loghi. Nella scorso video ho fatto vedere come funzionano i pennelli, ma quando tu sei nella sezione sculpt, all'inizio puoi cliccare e attivare il fatto di impiegare degli stencil. Gli stencil servono per mettere magari un logo sopra un qualsiasi oggetto. Ho scaricato un oggetto a caso, magari il cliente mi ha detto, bello quell'oggetto lì, si può usare? Si può usare liberamente? Si, si può usare. Ammettiamo che si può usare, voglio sopra il mio logo. Chi era questa persona qua? Non era di certo il titolare di Nike, ma era un titolare di una piccola media impresa che c'è qua. Allora cosa ho fatto? Io mi sono fatto dare il logo in JPEG, bianco-nero, e ho scaricato sulla mia scrivania questo logo. Ho cliccato sopra importa e ho importato il suo logo. Adesso per comodità ho preso questo qua della Nike, clicco, è un JPEG PNG XPM, apro, e d'ora in poi, cliccando sopra questo, io avrò questo stencil sopra al mio pennello. Prendiamo un esempio di questo pennello qua. I pennelli vedete che si sono ridotti. Si sono ridotti perché è lo stencil applicabile solo su meno pennelli. Prendiamo per esempio questo dove rigonfia. Io rigonfio la mia area e all'interno di questa area ci sarà inciso il logo della Nike. Stessa cosa si possono fare anche con uno smile che sorride, un quadrifoglio per esempio, e questa tecnica qua si può usare anche per decorare una certa superficie. Faccio un esempio, magari voglio una mattonella con delle lavorazioni, un quadretto ripetibile, io lo lavoro prima qua e dopo lo ripeto. Cosa faccio? Do una trama alla mia superficie. Posso anche utilizzare altri pennelli più aggressivi, vedete, in questo caso non funziona. Dovrei lavorare su alcuni dei parametri dei pennelli. Ogni volta che si applica lo stencil a un pennello reagisce in modo differente. Vi faccio vedere, questo qua reagisce in modo totalmente diverso dall'altro. Questo invece in maniera simile, cioè più tenue ma meno definito. Voi l'importante è che abbiate in mente che è possibile modificare facilmente i modelli 3D in STL. Attraverso cosa? Attraverso Mesh Mixer, usando pennelli e stencil da applicare su pennelli. Questo video, se ti è stato utile, condividilo. Alla prossima!